Maxi risarcimento alla famiglia di Giancarlo Vianello, lavoratore portuale morto di cancro per l'inalezione di amianto. I familiari dovranno ricevere, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Venezia, un risarcimento di ben 670.000 euro da parte dell'autorità portuale, riconosciuta responsabile del decesso. Dopo anni e debattagli legali, lacrime e dolori, alla vedova saranno destinati 150.000 euro, mentre ad ognuno dei quattro figli andranno 130.000 euro. Sebbene il denaro non riporterà il signor Vianello in vita, costituisce un buon precedente per il risarcimento di altre vittime dell'amianto nel porto e anche da deterrente per non esporre ad altri rischi i lavoratori. La storia del signor Vianello è quella di tanti altri operai del porto di Venezia degli anni 60 e 70. L'amianto arrivava al porto in sacco di ghiuta, che spesso nel momento della virata della nave si rompevano, spargendo le particelle del materiale cancerogeno in aria e finendo nelle vie respiratorie dei lavoratori, intossicandoli. A seguito delle testimonianze di altri lavoratori portuali, il consulente tecnico del Tribunale di Venezia ha riconosciuto senza ombra di dubbio la correlazione tra la morte per cancro del lavoratore e la sua esposizione all'amianto nel corso dei suoi quasi 30 anni di lavoro al porto. Il responsabile è stato dunque identificato, anche se il ricorrente nel frattempo è morto.